Dopo il brutto incidente del mese scorso a Capri, quando è caduta in acqua sbattendo la schiena in maniera violenta, Simona Izzo non si è ancora ripresa. Se ora riesce a camminare, non può però fare le scale da sola, ma ha bisogno di aiuto. L'attrice ha mostrato sul social come è costretta a salire le scale per raggiungere il piano di sopra della sua villa di Roma, dove si trova la sua camera da letto. Nelle immagini si vede la 67enne seduta su un montascale, che fu fatto installare molti anni fa per la madre del marito Ricchi Tognazzi. Purtroppo le sue condizioni non le permettono neanche di raggiungere Favignana, la bellissima isola dove qualche anno fa ha comprato una villa da sogno facendo un consistente mutuo. Per quest'estate dovrà rinunciare al mare della Sicilia. Ciao!